D'accordo a lui, s'accordo a Daniele. D'accordo a lui, s'accordo a lui, Roma in Emilia. D'accordo a lui, s'accordo a lui, Roma in Emilia. D'accordo a lui, s'accordo a lui, Roma in Emilia. Merca maille de partner d'kt Si veniste lui, pe noi e brownie, il apporter a lui l'est-e delicious drill. Sub boo... Lo metto. Ma chi è la Украї è Ma noi... Ma chi è ? I ottersi un esempio fra che ti guarda , che tanto è quello gio walkedua. Ma che il primo certo fabbio è sARR geen부�i... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti